Musica Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario & Bowser in Sad Story A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Mario & Luigi che hanno combattuto contro la stella oscura L'hanno sconfitta, è uscita al corpo di Bowser E adesso sta cercando il suo pieno potere che è stato rubato da qualcuno Mmm, chissà chi è stato Ah ma guarda un po' sta fuggendo Ehi, fermati lì Detto questo, allora, prima di tutto Vuole che ne ridi energia? Certo, curami per dieci monete, vai Ale, tutti i PV, a posto Distruggiamo blocco con una sveglia rivincita Questo tra l'altro dovrebbe essere uno shortcut o sbaglio? No, allora, non è propriamente uno shortcut, ci fa proseguire, già che ci siamo allora Cento monete Cinquanta monete Come la raggiungo Questa piattaforma? Forse ce la faccio Già da qui, vero? Eh, no, mi sa che è un po' in alto Ah, ma chi l'ha visto? Oh, fermo No Ecco qua, zanne uniche 40% in più di punti azione Mmm, non è male, però Potrei togliere questo qua della difesa Mmm, effettivamente Posso cavarmela volendo Soprattutto tra poco che otterremo l'ultimo attacco Vediamo qua Altra cento monete Vediamo Dove siamo? Stiamo proseguendo in zone Teoricamente uniche Ok Allora, iniziamo il nostro percorso Prima Di qua Ultrasciroppo Poi Stellamella Cento monete E basta Ok Di qua invece abbiamo Niente Uno shortcut È di qua che abbiamo tutt'altra zona ancora Anche perché qui Noi sappiamo cosa c'è Bowser Ancora no Un'altra stellamella Ma nemici cose Oh, ma guarda quanti ricordi Qua è dove tutto è iniziato, eh, Bowser Cento monete Qui è dove tutta questa storia stupida è iniziata Tutto per colpa Di Mario che mi ha rubato un'altra volta Peach Ma se lo prendo Detto questo Ok, questa non era la via giusta O meglio Di qua finiva per Bowser Di qua penso che prosegua Ma per Mario e Gigi Sì, esatto Qua è zona per loro Va bene Stella oscura Stella oscura Dove sei mia stelluccia? Oh, ma guardalo Ehi, sembri ancora più un pirla di prima Ma sei ancora qui in giro Quando ti leverai di torno Sarà sempre troppo tardi Disgustevole Per colpa tua non sono riuscita a prendere tutto il potere che volevo Questo mi dispiace Ora levati dai piedi che sono di fretta Dove si è cacciata la mia brutta copia? Sei fastidioso come una zanzara in una giornata fosa Bowser, questo sarà il nostro ultimo disgustevole incontro Il disgustevole castello È già stato Rinnovato Rimodernato Super Robot Peach Oh no Non di nuovo Cazzo Povero Bowser Eh già Evangelion Oh no Va che bellino che è Cazzo Eh che cacchio È stato schiacciato di nuovo Andiamo Mario Sempre qui finiamo eh Vi preghiamo di salvare per l'ennesima volta il nostro padrone Per favore È certo Se no Forza andiamo Eh sì Se no Come facciamo ad andare avanti Allora Dai su Facciamola Semplice No Oddio Pensavo Fosse un po' troppo vicina Ups Colpisce la Luigi Andiamo Quella blu Dà un sacco di punti È come se stessimo giocando A Quidditch Ecco fatto Ah merda Non ho visto Ups Dai Ma dai Ok ci manca Poco poco Ancora pochino Ancora un po' Ecco fatto Ok Ora dobbiamo combattere Contro quella grossa L'energia sta tornando Forza Luigi Colpiamola Colpiamola Vembo qui in su Che se mi spari un colpo Poi Non riesco a evitarlo Esatto Mannaglia Vai via Vai via da me Brava L'energia sta pulsando più forte Bowser si sta svegliando Io mi sono rotto Le scatole Di castelli Palazzi Treni Che mi schiacciano Continuamente Elevati Cretino Sono il castello Di Peach Benissimo E allora Io ti spacco E Bowser E Bowser E fuggiamo Toad Che si muovono solo così Ruota la console In verticale Ecco fatto Forza E si Super cannone Di energia oscura Supremo Cosa credi Di fare Fuochi d'artificio Sembra un veglione Non succederà niente Ti è andata male Eh già È andata proprio male Che strani fuochi Vabbè Non ho tempo Per le stupidaggini Devo assolutamente Fare qualcosa Tipo Prenderla Pugni Giusto Vai Io ci provo a farlo In questa In queste situazioni Risultato Attacco Molto positivo Usare Buco nero Colpire E colpire Capiu Sì Sì certo Vai Sai che quasi quasi Il fuoco È la scelta migliore Scotta 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 Brucia Al fuoco Al fuoco Materiali Combustibile Espulsione Via Oggetti A rischio Tipo i funghi Capapam Quasi quasi Un altro Esatto Un altro colpo Di fiamma Io te lo do Vai 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 Tanto Ormai il problema Del fuoco L'abbiamo superato Già da un pezzo Aiuto Scotta 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 E ho paura Che a continuare Col fuoco Poi mi tira fuori Una bomba Lo stronzo Ottima tattica Ma prossimo attacco Inevitabile Inutile Opporre resistenza Inutile Attacco Vai allora Colpisci Cretino Madonna mia Che Quel cannone Lì è incredibile Soghigno Tanto Cretino Cretino Però Guarda che roba Che ha fatto Allora Ancora Quella roba Eh sì Col cavolo Che stavolta Te la faccio lanciare Te la batto A fiammate Capum Trema Non puoi vincere Avvio programma Sistema difensivo Sì Certo Scudo completo Attacchi frontali Inefficaci Va bene Puoi proteggerti Quanto vuoi Aspetta che ti lancio Là dentro Aiuto 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 Non ancora Abbastanza Ci serve ancora Almeno un altro Colpo Purtroppo Come ho detto Non è per niente Preciso La cosa qui Non è fattibile Non con il mouse Perlomeno Proverò con la tavoletta Grafica Vediamo Se va un po' Meglio Il combattimento Sì Decisamente Decisamente Meglio Tanto ormai Questa è l'ultima Sezione Con Bowser Avrei dovuto Pensarci Non lo so Una decina Di episodi Fa Eh sì Perché Essendo che Abbiamo Arretrato Mentre lui Doveva Roteare Adesso Abbiamo Rallentato Di un turno E infatti Ora È nel buco nero Errore Programma Sistema Difensivo Annullare Scudo Eh sì E io mi faccio colpire Come un pirla Secondo te Di nuovo Sto scudo Ottima Tattica Ma come farai Ora Ha ingrandito Il buco nero Eh O meglio L'ha avvicinato Come cavolo Come cavolo Ha fatto Quindi questo Adesso è diventato Uno scontro Di logorazione Avvicinamento Fine in corso Sfida All'ultimo colpo Tra buchi neri Va bene Va bene Va bene E questo E questo Che vuoi Ecco fatto Dai Ancora uno Ti sarebbe piaciuto Colpirmi Decisamente Molto meglio Adesso Ti sta bene Pirla Prima o poi Consumerò La banchettina A furia di fare Ste cose Avvio Sistema Bu Attivazione Invisibilità In corso Anche Contraattacco Sarà Ostacolato Sì Sì Come no Va bene E allora Finisci nel buco nero Cretino Ormai Con la tavoletta Grafica Tutto più semplice Per noi Preso Ti piacerebbe Colpirmi Eh A furia di fare Sta roba Finirò La mina Della matita Purtroppo Prima o poi La finisco Di sicuro Crepa Scemo Dai che siamo Alle fasi finali Ormai Ormai La vittoria È nostra Ti piacerebbe Riconoscimento Forza Avversaria In corso Ma Anche Per te È Finita Oh Cacchio Il buco nero Se Io Cado Tu Cadi Con Me Ottimo Adesso È una fase A colpirlo Da un buco Nero All'altro Ecco qua Ancora Uno Yes Andata Caboom Castello Giù caduto È 7500 Punti Ah giusto Non devo usare Il Allora Cosa aumentiamo Io aumenterei La difesa Visto che voglio Togliere l'anello Se aumentiamo La difesa Ci copriamo Un attimo Preso Andata E ora Gira la console Grazie Tavoletta grafica Sei stata Utilissima Proseguiamo Oh Quello era il mio pene Spero che nessun Todd l'abbia visto Ale Ma quando smetteranno Di farmi perdere tempo Dove Dov'è Quello Che mi ha rubato I poteri Dove Dove Ehi tu Ridammi Peach Fermo Stavolta Non mi scappi Ehi Lassù Ma che sta succedendo La principessa Peach Sta bene Cosma Ascoltami bene Quando il gas nero Uscito dalla mia bocca Mi è sembrato Di vedermi In uno specchio sporco Cosa E quella brutta E quella brutta copia Si è portato via Peach I poteri Della tela scura Di Bowser Si sono fusi Stiamo parlando Di un Bowser oscuro Non ci voglio Nemmeno pensare È un incubo Però Ehi Mi sentite Mario Luigi La stella oscura Ha duplicato Le capacità Di Bowser Abbiamo una sola possibilità Dobbiamo combattere Il Bowser oscuro Insieme a Bowser Siete pronti? Se vi resta qualcosa Da fare Fatelo adesso Non avrete altre occasioni Insomma Ti prenderò Dannata copia Ti farò assaggiare La forza Dell'originale Questa è la fase finale Del giuego Questo si sta dicendo Il gioco E detto ciò Seguiremo Il consiglio Della nostra Piccola amica Noi ci fermiamo qui Io Farò La registrazione Adesso Del backtracking Non è detto Che lunedì Riuscirò a caricare Un video Forse neanche martedì Dipende Quanto è lungo Questo backtracking Adesso Dovrò vedere un attimo Gestire un po' Il tempo Però Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito Avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti